Il mondo dei droni, la pesca sportiva, le nuove tecnologie, design drive, maestri dash, gestione e configurazione del prodotto barca. Sono solo alcuni degli stand che saranno presenti dall'1 al 3 maggio al porto turistico di Pescara per la seconda edizione di Sottocosta, la fiera della nautica abruzzese. Un settore assolutamente strategico, poi noi qui a Pescara, avendo un porto turistico così importante, ce ne ricordiamo solo quando c'è da tragarlo, ma bisogna ricordarsene 365 giorni all'anno. La Camera di Commercio ci sta investendo su Sottocosta, è la seconda edizione che mettiamo in cantiere, i numeri ci stanno dando ragione, c'è un incremento di espositori, 13 espositori in più in questo settore. Sono espositori importanti, sono piccole industrie, anche artigiani di una certa qualità, in una fiera così importante, per noi lo è assolutamente, vuol dire che c'è vivacità nel settore, c'è un modo di reagire, c'è una reazione che necessita, perché la nautica insieme ad altri settori vitali del nostro paese è stata tra quelli più colpiti. Un comparto importante per l'economia regionale, a vocazione marittima e di grande eco anche da fuori. Nonostante le polemiche in corso per il caso Dragaggio, come ha voluto sottolineare il presidente della Camera di Commercio, Daniele Becci, nessuno dimentichi che questi sono numeri che hanno sempre premiato l'Abruzzo. Partiamo dal grande lusso, noi in Italia siamo all'avanguardia da questo punto di vista, lo siamo stati e continueremo ad esserlo, così come c'è un consumo di piccole imbarcazioni che sono poi la stragrande maggioranza degli utenti, degli appassionati, mi lasci questo termine, da noi appunto adesso al di là delle polemiche che qualcuno ha voluto innescare ma che non ci convolgeranno mai, glielo dico molto francamente, noi riteniamo strumenti essenziali, l'assonatica, l'assonatica, cioè quelle associazioni che rappresentano sia gli operatori sia gli utenti di un settore strategico per il nostro Paese.